Giovedì 4 novembre 2021, buongiorno a tutti voi da Manuel, questa è Forza Lazio Web TV, sono tantissime le cose di cui parlare, quindi partiamo subito con la nostra sigla. Bene cari amici, ben ritrovati come ti consueto, iscrivetevi a tutti i nostri social, attivate le notifiche come state vedendo in questo preciso istante in sovraimpressione, attivatele perché ripeto sono importanti, vi permettono di non perdere nulla di quelli che sono i contenuti che noi andiamo postando quotidianamente sul nostro canale YouTube. Grazie, grazie a chi si sta abbonando al nostro canale, con un piccolo supporto di 1,99€ potete appunto dare il vostro contributo ed aiutarci, e stasera a tal proposito durante la diretta di stasera devo dirvi una piacevolissima novità inerente di questo discorso, e mi raccomando grazie, chiaramente ci mancherebbe anche alle aziende che si sono avvicinate a noi volontariamente con dei contributi appunto spontanei, ci stanno supportando con delle donazioni mensili, non posso che ringraziare queste amiche aziende che in questo preciso istante state vedendo in sovraimpressione chiaramente gli amici della palazzina, gli amici di Sarabanda e Daniela di Fratello Lupo, a tutte le loro famiglie, a tutte le persone coinvolte in quelle che sono le loro attività che andremo poi a conoscere più a fondo organizzando anche eventi lì da loro, mando un caro abbraccio. Da oggi, da adesso, c'è una novità, se andate a leggere bene la descrizione del video di oggi, parlo della descrizione su YouTube, quindi chi ci sta vedendo ad esempio dal link che abbiamo pubblicato su Twitter o su Facebook, vi invito appunto sulla descrizione di YouTube a guardare una novità che c'è da oggi, altro piccolo step di crescita di Forza Lazio Web TV. Chi di noi non fa acquisti su Amazon, ragazzi? Dai, parliamoci chiaro, io medialmente viaggio sulla media di almeno un acquisto a settimana. Ecco, se volete, potete contribuire anche in questo modo a Forza Lazio Web TV. Come? Da ieri abbiamo aperto la nostra affiliazione con questo e-commerce, il primo al mondo, chiaramente, come Amazon. Quindi, se voi dovete acquistare qualcosa, fatelo cliccando sul link che trovate in descrizione. A voi non costa nulla, non pagate nulla di maggiorato rispetto al prezzo del prodotto che andrete acquistando. A noi arriverà, in quanto affiliati, una piccolissima percentuale di premio che Amazon ci dà, appunto, su quello che è il vostro acquisto. Ma la cosa importante che ci tengo a rimarcare, lo ribadisco, è che voi, se comprate un paio di scarpe a 30 euro, sempre 30 euro pagate. Non è che perché entrate col codice affiliazione di Forza Lazio pagate 31-32 euro. No, non è così. Sempre 30 euro pagate. Quindi, questa è la novità di oggi. Ma andiamo, è giornata di partita, andiamo quindi a parlare di quello che è il match di oggi. Comincio da una cosa che forse, visto che è accaduta tre giorni fa, può sembrare anacronistica, ma io volutamente l'ho tenuta per oggi. Sapete benissimo qual è la linea di Forza Lazio. Forza Lazio non parla molto, non dà molto spazio a ciò che accade fuori dal campo. Chiaramente quello che è accaduto domenica sera, le dichiarazioni del ministro francese che ha vietato l'ingresso del tifoso laziale nel territorio francese, chiaramente è un qualcosa che va al di là del calcio. Quindi assolutamente da condannare. Ma c'è ben poco da dire in merito a questo schifo accaduto. Il comunicato della Lazio, e faccio i complimenti all'autore, è praticamente perfetto, dice tutto. È un comunicato chiaro, limpido, che assolutamente in maniera incontroversibile risponde in maniera chiara e netta a questa stupidaggine, a questo decreto che è stato emesso in maniera a dir poco assurda dal ministro francese. La cosa che colpisce è il silenzio del governo italiano di fronte a quanto accaduto. Però la Lazio purtroppo è questa. La Lazio viene sempre abbandonata, lasciata a sé in queste situazioni. Quindi purtroppo andiamo avanti, ce ne freghiamo. In merito invece al vietare la trasferta ai tifosi della Lazio, almeno io l'avevo dato per scontato. Perché se non l'ha fatto venire loro nella gara d'andata, chiaramente è giusto ed eco anche il contrario. Ci mancherebbe altro. Il problema è che la tifoseria della Lazio tutta, generalizzando, è stata affibbiata come fascista e violenta. Mamma mia, scusate ragazzi perché stavano per investire un cane proprio davanti a me. Mamma mia, questo è tra virgolette il bello della diretta. Meno male che non è successo niente. Mamma mia. Stavo dicendo, comunque torniamo a noi, che praticamente Tutto questo viene da parte del ministro, viene a difesa del Marsiglia che quest'anno i tifosi, che stasera non ci saranno perché è stata chiusa la curva agli ultra, è stato vietato l'accesso agli ultra del Marsiglia, che stanno facendo un macello ragazzi. Da inizio di questa stagione gli ultra del Marsiglia hanno fatto un casino col Gala da Sarai, insomma ne hanno combinate tutti i colori, col Nizza se non sbaglio in campionato. Insomma, guarda da chi viene il pulpito, no? Come si dice. Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, assolutamente da condannare quanto è stato deciso dal ministro francese. Giusta, giustissima la risposta nel comunicato della Lazio, poi condito dalle dichiarazioni di ieri di Sarri, che in maniera abbastanza chiara ha detto Fossi lotito inviterei il ministro francese a venire a vedere all'Olimpico una partita della Lazio. In questo modo si renderebbe conto, parole testuali del nostro mister, che quindi vado a ripetere, che ha detto una cazzata. Punto a capo. Chiuso questo discorso. Andiamo invece, ragazzi, ad addentrarci in quella che è la partita di oggi, che è assolutamente importante, importantissima. Io ci tengo all'Europa League, voglio arrivare il più a fondo possibile. Per me non è un intralcio l'Europa League, anche perché giocare con continuità in Coppa, anche questo rappresenta un ulteriore step di crescita per la Lazio. Parlo di continuità in Coppa, giocando bene chiaramente, non giocare partite e basta, è proprio continuità di partite, di match disputati. Quindi oggi è importante. Vi dico la verità, per come è messa la classifica, anche uscire in battuti andrebbe bene, perché poi il Galatasaray nelle prossime due ha Marsiglia e Lazio. Quindi ancora sarebbe tutto in ballo, dando per scontato che la Lazio deve battere assolutamente il Galatasaray nell'ultima giornata, se non sbaglio, di Europa League. Però è tutto in ballo, ce la giochiamo e ce la giochiamo nel momento migliore. Andiamo a Marsiglia nel momento migliore, perché la Lazio, ripeto, quello che ha fatto vedere a Bergamo domenica, non deve assolutamente essere una cosa isolata a sé. La Lazio ha dimostrato che è forte e che può andarsela a giocare a Marsiglia tranquillamente. Il Marsiglia chiaramente è squadra ostica, molti come l'Orixana due settimane fa descrissero il Marsiglia come squadra superiore alla Lazio, io non sono proprio convinto di questo, dico la verità. Anche se la Lazio di oggi sarà un pochino rivoluzionata per motivi più o meno forzati. In porta giocherà Stracoscia, che è tornato ad essere con continuità il portiere di Coppa della Lazio. In difesa assicuri gli utilizzi di Acerbi e Luis Felipe Ramos come coppia di centrali difensivi. C'è ancora un po' di indecisione in merito ai terzini. L'unico sicuro di giocare è Adam Marusic e dall'altra parte o Yusai o Lazari. È un attimino da vedere, c'è questa cosa qui. A centrocampo confermatissimo Cataldi. Gioca poi Basic e Luis Alberto. Quindi al 99% sarà Milinkovic a partire dalla panchina. Tanto è vero che Sarri ieri ha fatto un accenno nella sua conferenza stampa e ha detto che devo parlare con il ragazzo per vedere un po' com'è la situazione. Però ha fatto capire, secondo me, tra le righe che Milinkovic dovrebbe partire dalla panchina. Ma lo dico adesso, se mi sto imparando a conoscere un pochino Sarri, non rimarei affatto sorpreso se a giocare fosse ancora Milinkovic. Perché? Perché domenica c'è la Salernitana e magari domenica puoi far rifiatare Milinkovic per far spazio dal primo minuto a Basic. Quindi ve lo dico adesso, per ora sulla carta Milinkovic parte dalla panchina, ma non rimarei affatto sorpreso se a partire appunto dal primo minuto anche oggi fosse appunto Milinkovic. Ok? Questa è una cosa. In attacco confermati i due esterni, Felipe Anderson e Pedro, anche perché alternative non ce ne sono. Ma la novità, ahimè, dico io, è che molto molto probabilmente non ci sarà Ciro Immobile che in questi giorni è stato colpito da un virus intestinale. Ma vi dico la verità, il virus intestinale è secondario rispetto a un fastidio che il nostro bomber accusa nel fare alcuni movimenti. Il ginocchio, nella parte esterna del suo ginocchio accusa, quando fa dei spostamenti di direzione, un piccolo fastidio che gli provoca dolore. Quindi forse la Lazio, il mister Zari e tutto lo staff tecnico opteranno, nonostante Ciro sarà presente in Francia, opteranno per dare un turno di riposo appunto al nostro bomber che vi ricordo essere il più prolifico della storia della Lazio. Essendo lassù nell'Olimpo, lassù nell'Olimpo insieme a Silvio Piola con 159 reti, realizzate con la maglia della nostra Lazio. Questa sarà la formazione quindi che scenderà in campo. Chiaramente ragazzi, non prendiamoci in giro, a me non piace fare stupida diplomazia. Tanti dicono che i giocatori della Lazio vanno difesi sempre finché hanno la nostra maglia. Sì, dall'esterno guai a chi ce li tocca, ma dall'interno permettetemi di dire che per me giocare con Murici è davvero oggi ragazzi. E' qui che la Lazio pecca, non ha assolutamente un'alternativa valida e di qualità lì davanti. Poi, per carità, magari segnasse Murici, magari mi sputtanasse Murici oggi e domani mi vedreste così. Domani mi vedreste così con un sorriso a 50 denti, felice, magari per un successo siglato proprio dal nostro Vedat Murici. Io me lo auguro, però onestamente, così come per Stragoscia, sono due calciatori che non reputo assolutamente all'altezza della Lazio. Allora, devo fare una piccola sottolineatura perché forse mi sono spiegato male nel video di ieri in cui appunto facevo l'accenno in maniera sarcastica a Bruno Giordano. Allora, non è Bruno Giordano che ha detto, perché qualcuno ha detto no Manuel ti stai sbagliando perché Giordano ha detto che il miglior giocatore col quale ha giocato sempre è stato Vincenzo D'Amico. Ma io non ho detto questo. Io ho detto che Maradona, Maradona affermò più volte che Bruno Giordano è stato il calciatore più forte con il quale ha giocato. Il che è diverso. Io non ho sottolineato delle dichiarazioni che ha rilasciato in passato Bruno Giordano bensì Diego Armando Maradona. Quindi vado un attimo a correggere, a rispondere agli amici che hanno sottolineato un mio errore nel mio video di ieri. Non era assolutamente riferito a Bruno Giordano ma erano delle affermazioni di Maradona inerenti appunto il bomber bianco celeste che ancora oggi continua a chiedermi cosa gli abbia fatto Sarri perché ragazzi Sarri continua ad essere punzecchiato da Bruno Giordano ma non voglio tornare appunto nel discorso di ieri. Vado chiudendo questo discorso ricordandovi che questa sera a partire dalle 20.45 attivate la notifica perché è già programmata la live. Saremo in diretta per assistere appunto a questa partita di Marsiglia gara assolutamente impegnativa e difficile. Tra l'altro piccolo dato statistico tre anni fa risale a tre anni fa l'ultima vittoria in trasferta della Lazio in Europa League. La Lazio sono dieci partite che non vince in Europa League e l'ultima fu proprio tre anni fa e ricordo perfettamente quella serata perché facemmo una diretta meravigliosa con il nostro vecchio progetto S Laziali Web Radio fu davvero una grandissima serata bellissima e la Lazio vinse appunto 3 a 1 a Marsiglia e segnò Marusic Wallace e non mi ricordo chi fece l'altro gol. Insomma fu lì a quel giorno risale l'ultima vittoria della Lazio. Con questo ragazzi io mi fermo mi raccomando la novità di cui vi ho parlato a inizio video Amazon siamo affiliati Amazon da ieri quindi questo vuol dire che potete potete fare liberamente i vostri acquisti su Amazon nel link contenuto in descrizione non pagando nulla in più ma dando indirettamente sul vostro acquisto una piccola percentuale Amazon invece di prenderla per sé la rilascia a noi in quanto affiliati e quindi anche in questo modo si può contribuire a Forza Lazio Web TV. Mi fermo qua ragazzi riposo la voce in vista dell'impegnativa trasferta e diretta di questa sera ci saremo come di consueto quindi mi raccomando tutti insieme per Marsiglia Lazio. Da Manuel e da tutta Forza Lazio Web TV un abbraccio forte forte a tutti voi e come sempre Forza Lazio!